Regione e Comune di Como riannunciano un max investimento per le strutture sportive con uno stanziamento che supera i 14 milioni di euro per il nuovo palazzetto di Mugio, la riqualificazione dei centri di via Spartac e via Acquanera e il rifacimento degli spogliatoi del rugby. Gli investimenti erano stati già annunciati in una conferenza stampa nel mese di dicembre di due anni fa. I soldi sono stati messi a disposizione nell'ambito del patto per la Regione Lombardia, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione, quando erano guidati rispettivamente da Matteo Renzi e Roberto Maroni. Nel 2017, al momento dell'annuncio della disponibilità dei fondi, erano stati indicati tempi brevi per l'avvio dei lavori. Nella pratica i soldi non sono ancora stati usati perché prima di procedere con i cantieri sono necessari passaggi tecnici e burocratici che solo nel recente passato sono stati finalmente avviati. In particolare, sono stati sottoscritti tra Comune e Regione i patti per l'utilizzo delle risorse per i singoli progetti e si stanno definendo i relativi schemi di convenzione. Agli annunci dovrebbero ora dunque seguire anche gli interventi concreti promessi da Regione e Comune. Gli assessori comunali e regionali alla partita intanto si dicono soddisfatti. Si è deciso di intervenire sugli impianti sportivi, commenta l'assessore allo sport del Comune di Como, Marco Galli, scegliendo quelli maggiormente ammalorati per strutture, campi, spogliatoi e considerando quelli attualmente più utilizzati o con maggiori potenzialità di utilizzo. Il progetto più importante per il quale è previsto un investimento di circa 9 milioni e mezzo di euro tra costruzione della struttura e nuova viabilità è quello del palazzetto di Mugeot. Per il Comune di Como sono stati finanziati 5 importanti progetti, ha spiegato Martina Cambiaghi, assessora allo sport e giovani di Regione Lombardia. Uno stanziamento significativo che rappresenta un'importante azione concreta che Regione ha voluto mettere in atto per migliorare lo stato di salute delle principali strutture sportive cittadine.